Lisa Molteni, candidata per la lista Noi di Centro Mastella al Senato, collegio plurinominale di Varese e anche nel collegio uninominale di Como. È qui con noi a Malpensa 24, è arrivata unica candidata fino ad ora con il monopattino. Come mai questa scelta innanzitutto? Bene, allora intanto grazie per avermi invitata, sono veramente molto contenta di essere qua da voi, seguo davvero tantissimo le vostre attività, i vostri lavori, quindi per me è un onore. Ma intanto perché ero comoda e poi perché ho sposato l'idea che comunque ognuno di noi debba dare un contributo per mantenere in salute il nostro meraviglioso pianeta, quindi dalle parole ai fatti possiamo dire. Lei è già conosciuta per alcune esperienze di candidature precedenti, è stata candidata sindaco a Gerenzano ed è anche la prima dei non eletti nella lista di Gianluigi Paragone a Milano. Come mai si candida questa volta con questa lista Noi di Centro con leader Clemente Mastella? Sì, allora grazie intanto per aver ricordato le mie due esperienze precedenti, tra l'altro sono esperienze che mi hanno portato degli ottimi risultati, perché con il progetto su Milano ho ottenuto il miglior risultato in fatto di preferenze e con il progetto su Gerenzano non sono diventata sindaco, ho mai diventato sindaco una donna altrettanto brava e preparata e l'obiettivo che miravo ad ottenere era quello di poter portare un nuovo gruppo a lavorare sul territorio, abbiamo ottenuto l'11% e siamo in Consiglio Comunale. La scelta di partecipare al progetto dell'Onorevole Mastella è semplicemente dettata dall'aver per primo sposato il progetto politico, tenga presente che comunque questo progetto politico nasce da una coalizione tra la democrazia cristiana, il progetto noi di centro chiaramente organizzato dall'Onorevole Mastella e dal progetto del gruppo politico e del movimento del senatore Raffaele Fantetti, già presente peraltro in Parlamento, che si chiama Europeisti. Questo progetto ha dato vita a questa diciamo impresa, nuova avventura che abbiamo proposto chiaramente sia il Senato alla Camera e che abbiamo definito un po' un'avventura, un progetto glocal, perché da una parte gli europeisti ci danno la possibilità di avere una visione globale, cioè una visione che dall'Europa deve portare l'Italia ad essere attore partecipante dell'Unione Europea e non ad essere chiaramente il fanalino di coda e dall'altra avere una mission che riporti la sovranità popolare al centro con l'Onorevole Mastella che peraltro è un bravissimo amministratore sindaco di una città meravigliosa. Mi permetto di dire che anche io sono la fidanzata di un bravissimo sindaco per cui per me diventa molto importante il fatto che i cittadini possano ritornare ad avere fiducia chiaramente nelle istituzioni perché in questi due anni è venuto a mancare molto. Il vostro movimento punta ovviamente a superare la soglia di sbarramento del 3%, è convinta che ce la possiate fare? Beh sì, io sono una persona estremamente positiva, poi ovviamente è un progetto che non morirà qualora non dovessimo riuscire a superare il quorum, è un progetto che vuole continuare anche in una prospettiva regionale, cioè abbiamo formato dei gruppi di lavoro con persone capaci e che hanno voglia chiaramente di metterci la faccia per lavorare. Tenga presente, ecco giusto per darle una nozione in più, noi riteniamo anche che lo stipendo di parlamentare debba essere ridotto perché il lavoro del politico è un lavoro che deve dare risposte e io credo che il giusto compromesso per ritornare ad avere anche la fiducia da parte dei cittadini sia quello di tornare anche a ridimensionare gli stipendi e di fare in modo che ci siano più risposte piuttosto che ad altro a livello di superficie di stipendi insomma. In estrema sintesi quali sono i principali punti del vostro programma e in particolare se c'è qualche proposta per il nostro territorio? Ma guardi dal punto di vista del programma, il nostro programma come l'ho già anticipato prima è un programma che tende a portare la sovranità popolare al centro, vogliamo dare molto spazio anche al mezzogiorno perché noi crediamo fortemente di poter essere attori partecipanti in Europa, il PNRR sicuramente ci fornirà degli strumenti utili che possono sicuramente dare beneficio alle infrastrutture ma anche alle strutture soprattutto legate chiaramente alla salute e ad altro. Dal punto di vista dell'ambiente siamo l'unico partito che ha veramente dato molto spazio all'ambiente, tenga presente che l'Italia è uno dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea che ha un potenziale enorme, si immagini che le nostre isole, la Sicilia e la Sardegna hanno la stessa capacità di produrre energia come i Caraibi, detto questo ovviamente visto che nella prima agenda di tutti i partiti esiste la risposta da dover dare ai cittadini per la risoluzione del caro bollette perché come lei ben saprà è uno dei temi predominanti. Ecco noi non siamo quel partito che fa la morale alle famiglie come tanti, noi siamo consapevoli che nessun governo potrà dare risposte se non uno shock voglio dire di prezzi che resettino totalmente quello che sta succedendo, però sicuramente confidiamo molto nel buon senso delle famiglie, di rivedere chiaramente anche le abitudini domestiche ma sicuramente non saremo noi a fare un listino, però siamo anche consapevoli che nel medio tempo l'Italia possa dare delle risorse soprattutto in fatto di energie chiaramente rinnovabili sicuramente superiori a tanti altri paesi, quindi questo è chiaramente uno dei punti del nostro programma sui quali noi insomma siamo molto fieri perché non tutti i partiti hanno presentato un programma con questo tipo di risoluzione. Vorremmo anche dare spazio, tornare a dare molto spazio alla pubblica amministrazione perché come le accennavo prima i cittadini in questi ultimi periodi hanno veramente fatto molto affidamento alle persone che avevano sul territorio soprattutto in questi due anni pandemici per cui sicuramente spazio alla pubblica amministrazione, la riforma della giustizia sicuramente messa al centro del nostro programma, quindi è un programma importante e che chiaramente invito tutti i lettori, i vostri seguaci di Manpensa24 a seguire direttamente sulla mia pagina social che è Lisa Molteni, ecco lì troverete tutti i riferimenti del programma del nostro progetto politico.